E adesso si è capito certamente fuori, giocare sempre con gli amici fuori, pronti? Come puoi vedere non è difficile, allora pronti con le maniglie, sulle maniglie! E il battino le ho le mani, per farle vibrare, se fai come schizzo il ciccio, se fai come schizzo il ciccio, e poi ce lo sbaglio, so, 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 so. E vediamo di chi non salta, e Napoli vincerà lo stiletto, se non salta a te, per non tirare alle mani, per farle vibrare, se fai come schizzo il ciccio, se fai come schizzo il ciccio, è arrivato anche Billaden, Giambon, 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 dedicato a Giovanna! Allora mettiamoci tutti quanti dietro la risposta, parte il trenino e noi giochiamo da chiappa, l'ospite Moscio! Andriano! Andriano! Oh, yeah! Sous-titrage ST' 501